Ciao a tutti e bentornati su RealPolitik, bentornati alla partita più assurda della storia, credo. La nostra folle, 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 folle partita con la Mongolia. Che disastro di partita, che disastro di partita. Allora, stiamo cercando disperatamente di sviluppare le unità navali, non ce la faremo mai, perché siamo andati in negativo? Oh Dio mio, siamo in negativo, siamo in negativo. Stiamo facendo due ricerche, unità aereo-universali e unità navali in contemporanea. L'obiettivo dopo è sbloccare trasporto di unità e finalmente unità da trasporto. Beh certo che siamo in negativo, abbiamo queste che ci danno del mantenimento, Santo Cielo, Benedetto, Benedetto, Benedetto. Allora, preparatevi perché francamente io ci ho anche studiato, ma grosse altre cose. O escono altre missioni da 15.000. Andiamo avanti a 15.000, botta. Tronare una democrazia adesso in realtà ci aiuterebbe relativamente. Forse riuscissimo a diventare un autoritarismo. Sì, corsa allo spazio. Che ce l'ha tutti sti soldi, sti punti azioni? Minchia, me ne darebbe 3.000. Me ne darebbe 3.000. Ovviamente non possiamo perché ci mancano quei 50.000 lì. Qui viene da 1.000, 1.000, fa 2.000. Aumentando il pil pro capita, rinunciaci. Sì, andiamo avanti. Continuiamo, cerchiamo una missione che si possa fare e ci dia un po' di pil. Basi spaziali ovviamente non possiamo ricercarle. Potremmo dichiarare guerra riunito. Istruzione universitaria universale. Sì, come no. Niente istruzione universitaria universale. 4 unità navali costano troppo. Niente. Centro di ricerca. No, troppo poco mi dai. Dammi qualcos'altro. Una bella missione seria. Stiamo prendendo punti prestigio a manetta. Infrastrutture 3. Ma chi... Aspetta un attimo. Vediamo un po' infrastrutture 3. E' fattibile. Quanto costi? 600 punti azione. Sì, si potrebbe far partire perché con queste due dovrebbero arrivarci le 2.000. E se non sbaglio controllo meno uno, militarismo meno uno. Va bene, dai. Se non sbaglio, se non sbaglio, forze armate, questa viene 1.500. Quindi no, col cazzo che siamo ad avere quei 400, 600 punti azione. Palle. Quindi no. Non è una cosa fattibile. Peccato. I membri di un'associazione turistica internazionale vorrebbero investire nel nostro paese. Ma soprattutto le turistiche. Vabbò. Figo così. Figo così. Rinuncia, va. Accumula almeno 120 punti azione. Ma che se ne facciamo di punti prestigio? Tanto li stiamo bruciando uno dopo l'altro. Allerti generali, scendiamo in guerra. Questo mi piace. Questo mi piace un sacco. Questo mi piace un sacco. Perché potremmo scendere in guerra? Non abbiamo i trasporti. Non possiamo scendere in guerra contro nessuno, santo cielo benedetto. Invece il Regno Unito sicuramente i trasporti ce li ha. Quindi ovviamente non ci andiamo a scantare contro di loro. E infatti i trasporti loro ce li hanno. Rischiamo di perdere un sacco di punti belligeranza. Questi sono in guerra con l'Ucraina e la stanno vincendo. Punteggio Unito più 30, noi meno 30 di punteggio. No, non comprendiamo. Fottetevi. Ve l'ho già detto che questa partita è folle. Uh, 44 punti azioni. Improvvisamente siamo andati in positivo. Ha migliorato la... Ah, perché non abbiamo più il malus, questo malus qua. Forniamo le protezioni. Più 3 di malcontento. Pazienza. Però finalmente adesso abbiamo un po' di punti azione. E questa è una cosa buona, giusta. E quindi, porco cane, avrei dovuto prendermi quella missione. No, Dio, 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 Dio. Che palle quando è così. Però anche andare in guerra in realtà ci aiuterebbe un sacco. che andando in guerra... Ignoriamo questo incidente. Controllo più uno, malcontento meno due. Quello che è fatto è inammissibile, ma si si prega. Blocco di Regno Unito distrutto. Non che ci interessa. Non interesserebbe andare in guerra con qualcuno che non ci possa ammettere. Redichiarare guerra all'Iran? Sì, dovremmo... Potrei anche investire 60 punti così per una guerra del cacchio. Nuova proposta. Riduzione universale degli armamenti. Non abbiamo gli armamenti, quindi che cacchio ce ne frega a noi. Tanto adesso forse potremmo fare una base spaziale. Però sono 50 punti azioni, quindi ne facciamo una sola. E non ci conviene per niente. Tra quanto scade? 210 giorni. Oh no, ma non ha senso. Non ce la faremo mai. Sono solo punti azioni sprecati. Solo punti azioni sprecati. Ed è un peccato, eh. Perché sarebbe stata una cosa molto utile. Da questi arrivi adesso ne facciamo due. Qui arrivano loro fra 100 giorni, ma ne mancano 100. Quindi ne facciamo solo più ore. No, non ce la facciamo assolutamente. Assolutamente improponibile. Dai, dai, dai. Allora, ce la possiamo fare. Me lo sento che forse riuscirebbe ad avere questi stramaledetti. Se stramaledetti unità da trasporto. E appena avremo questi benedetti unità da trasporto, andremo in guerra. Io me ne sbatto il cazzo. Stiamo per andare in bancarotta di nuovo per la 123sma volta, credo. Una che useremo questi punti per qualcosa di utile. Oddio, finalmente. Eh, solo che la... Non possiamo mica dichiarare guerra alla Russia. Questi ci annettono. Cacchio che dichiariamo guerra alla Russia. Unità aere universali e unità navali. Un premio. Due premi. Perfetto. Ah, stavo per dire paghiamo anche i debiti. Ma sì, dai. Facciamo questa figata. Aspetta un attimo. Vediamo se ci chiede la missione di saldare i debiti. Eh no, ma tanto se adesso faccio trasporto unità. Vediamo se ci offre la missione di saldare i debiti. Vediamo. Che missioni ci hai dato? Faccio una missione. Controllo più 18. Avvio il programma base aeronautica. Eh, e chi c'è la base aeronautica? Scusate, eh. Studi sull'aerodinamica. Base aeronautica. Che se, vabbè, come no? Quanto mai? Quando mai ci arrivo lì? Va bene. Falliamo così malamente. E adesso, aspetta, eh. Non ti muovere da qui. Cioè, rimuoviamo ok, va bene. Ma non ti muovere. E facciamo l'altra missione. Qualcosa che magari costi anche tanti punti azione. Questo ne vuole 700. Questo vuole roba che purtroppo non abbiamo. Questo ne vuole 1000. Questa ne vuole 38. Più 10% capacità. Chi se ne sbatte? Economia. Servizi. Eh, ci mancano i fondi. Abbiamo i punti azione. Ci manca l'indice di sviluppo umano. Che abbiamo già toccato, in realtà, i 60. Ma non abbastanza. Infrastrutture 3. Potremmo anche permetterci. Ci dà più 70. Cremo anche fallo. Modernizzazione dell'industria mineraria. Risosso naturale più 25. Oppure terminal di scambio, che però costa di mantenimento. Quindi no. Progetto per autostrade avanzate. Autostrade avanzate. No, no, no. Non ci siamo proprio. Questa roba posta punti azione. Facciamo modernizzazione dell'industria mineraria, va? Se no, qualcosa in politica interna per migliorare l'istruzione universitaria. Costa 3 di mantenimento. Non sarebbe neanche male, in realtà. Mantenimento 3. Fondo per gli eventi culturali. Quindi ci sono più 5. Ma un più 5 non ci serve a niente. Oh mio Dio. Perché qua sono bloccato in queste cose assurde? Missioni diplomatiche 2. Missioni diplomatiche. Sì, conviene poi fare missioni diplomatiche. Però adesso facciamo qualcos'altro. E niente. Facciamo infrastrutture 3. No, modernizzazione dell'industria, va? È un po' più utile dell'altro. Va bene. Fallimento e via. Avrei potuto anche fare un singolo investimento in una base navale. Ma insomma va bene anche così. Va bene anche così. Ok, 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 ok. Controllo 18. 18, 18, 18. Ah sì, base aeronautica è da annullare. Volevo capire. Controllo 18. Noi quanto abbiamo di controllo? 15 e tendiamo a 12. Quindi in realtà ci sarei anche potuto arrivare a 18. Ma quello era un obiettivo. Costruisce almeno 10 aerei. Solo che ieri costano... Sarebbero 200. Quindi ne guadagno 600. Va bene, si può anche fare. Quindi ne guadagno 600. E dovrebbe andar bene. Perché dovrei trovarmi... Il primo di luglio. Dovrei trovarmi teoricamente... A poter disporre dei fondi. Per avere l'ultimo livello di trasporti unità. E questo non sarebbe male. Non sarebbe male. Quindi devo andare in guerra. E poi costruire gli aerei. Va bene. Poi a quel punto ce l'avremo fatta. Avremo finalmente... I trasporti unità. Messico in guerra con Guatemala. Io spero l'annetta di modo da poter combattere contro il Messico. Che non credo abbia dei trasporti. Non ha trasporti. Perfetto. Ma aspetta, Messico non ha proprio niente. Ah, perché ce li ha impegnati col Guatemala. Però non ha trasporti. Bene, bene così. Bene così. Il Messico senza trasporti. Spero che si annetta un po' in fretta a sto Guatemala. Ah, sta crescita del PIL negativa è una merda. E di fatti non voglio andare in guerra adesso. Perché spero che mi scenda un po' l'interventismo. Frega niente che scenda il controllo. Frega niente che scenda il militarismo. Rinunciamo a questo. Che tanto non ci rinunceremo. Infrastrutture aeroportuali. Non me ne frega niente. Se mi dessi infrastrutture 3. Accetta modifiche. Va benissimo. Se mi dessi infrastrutture 3 come avevo prima. Sarei a cavallo, eh. Ma no, perché tanto non lo sto costruendo. Che cacchio dico? Non c'è ovviamente modernizzazione dell'industria mineraria, vero? Che mierda. Costruisce almeno 5 corazzati. Vabbè, tanto dobbiamo costruire un esercito che vogliamo andare in guerra. Quindi ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Sa, Messicani, avete quasi occupato Guatemala. Blocco di Corea del Sud distrutto. E purtroppo a trasporto unità stiamo ancora un pelino indietro. 164, 63. Organizzazione dell'industria mineraria. Finito questo, oltre, vabbè, a fare il livello successivo del trasporto unità, faremo, faremo la missione. Quella per migliorare la diplomazia, perché devo iniziare a far scendere anche il livello guerra fondaio. Ho fortunatamente già fatto quello a pagamento. E questa è una cosa buona. Ma decisamente possiamo fare di meglio. Ho tirato una bomba atomica, ad esempio. Siete pazzi? Israele contro l'Egitto? Ma siete pazzi? Uh, vogliamo andare in guerra contro il Messico. Molto bene. Chi era guerra al Messico? No, porca puttana. Quante punti azioni mi costa andare in guerra contro il Messico? No, ma dai, 554 punti azioni e mai più. Davvero costa così tanto? Minchia, 551 e 3931. Forse perché sono lontani. Di nuovo bancarotta. Ah, minchia, adesso abbiamo meno 62 di... Porco cane, tra un po' veramente non riusciremo a fare più nulla, eh. Stiamo continuando ad andare una bancarotta dopo l'altra. Tant'è che il PIL sta morendo. Non abbiamo più un PIL, ragazzi, ve lo dico molto chiaramente. Siamo proprio senza PIL. Probabilmente questo anche accelererà le nostre bancarotte, per l'altro. Trasporto unità fatto. Adesso ovviamente non abbiamo i fondi per la cosa successiva, però andiamo a fare missioni diplomatiche. Potremmo andare in guerra. Contro chi? Costruire 10 aerei. Costruire 5 carri armati, 10 aerei e andare in guerra. So che dobbiamo mettere da parte un po' di fondi qua. C'ho un po' di punti azione. Poi ne guadagniamo qualcosina in più. Qui sono programmi ed eventi che vanno male, mi sa. Perché non ci fai dichiarare guerra? Sto messo, che merda. Beh, io volessi dichiarare guerra a un mio vicino inutile, tipo il Kazakhstan. Costa 105, 105 ce lo potremmo già permettere, insomma. Tanto loro non hanno trasporti nemmeno l'oro. E quindi si potrebbe anche fare. Diritto all'autodeterminazione, ma che se ne frega. Ovviamente il PIL è tornato a crescere, questa è una cosa buona, anche perché il nostro interventismo credo stia crollando. No, quel cazzo le tasse sono sempre belle alte, comunque. Ah, beh, la situazione dell'economia mondiale è quella che aiuta di più, probabilmente. 167 giorni. Niente per poter... No, perché sono tutta roba che in realtà va bene, va anche bene fare. Costruiamo dei carri armati. Quanto già costano i carri armati? Due, perché costano 20. Allora no. Aspettiamo un attimino di avere la possibilità di costruire tutto. Carri armati e aerei tutto insieme. 5 carri armati, 10 aerei, ci vanno 200, 300 punti azione. 2, se è tutta punti azione, quando mai li faccio? Beh, in realtà sì, potrei andare in guerra. E così già metto da parte un po' di fondi. 500 che mi dà almeno 10 mesi di tranquillità e in quei 10 mesi costruirà aerei e quarzati. Si potrebbe anche fare, si potrebbe anche fare. Allora facciamo una bella roba. Manteniamoci i punti azione. Tanto per i Kazakistan abbiamo detto che ce ne servono. 105. Va bene. 105 punti azione. Sono assolutamente fattibili. Arrivarci, sì, pian pianino ci arriviamo. Se ci arrivasse qualche evento per accelerare un pelino. Va bene, migliorate un po' l'industria mineraria. Oh, l'industria mondiale del commercio. Meno due interventi, un più 13 di sviluppo umano, ma che ce l'ha tutti questi fondi. Poi perdere costerebbe anche di mantenimento. Disattiviamo la borsa valori. Pazienza. Tanto non costa nulla riattivarla e così non serve a niente. La struttura di base costa di mantenimento, ma pazienza. Ce lo teniamo. Facciamo un modernizzazione economica 3. Questo ci dà più punti azione. L'ultima ci dà più 0-10 crescita di tida. Andiamo avanti di lì. Dai, dai, dai. Arriviamo a questi 120 punti azione. Andiamo in guerra col Kazakistan. E ci troviamo a fare quello che ci serve per guadagnare l'ultimo, l'ultimo fottuto step che ci manca. Qui ce ne arrivano 19, se non sbaglio. Sì, perfetto. Quindi, come avere 97. Quindi, teoricamente, ci siamo, eh. Perché il Kazakistan mi ha detto che sono 105. Bon, 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 ragazzi. Tutto questo assurdo preparazione. Tutta questa assurda preparazione. Forse, forse, forse ha portato i suoi frutti. Sarebbe bastato se ci fosse uscito una sola volta quel fottuto evento che ci regala. Che ci fa comprare dei trasporti. Non avevano bisogno di tutto questo problema. Sì, fa un culo. Oh, andiamo in guerra col Kazakistan. Ma sì, chi se ne frega, inizia No, non mi far cazzate adesso, eh Ce l'abbiamo fatta, abbiamo tenuto Abbiamo tenuto Ho tenuto per un attimo che Mi attivasse il pagamento Della missione E poi mi facesse perdere Allora, aumentare il trasporto non ce le possiamo ancora permettere Ma, 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 ce le potremo permettere Tra poco, perché 500 corazzati non bastano 10 aerei, allora 10 fottuti aerei E siamo a posto Bom Sompriamo questi 10 aerei Ci da 800 Quanto ci mettiamo a produrli? 238 giorni Cosa ci darebbe? Punteggio e relazioni col mondo Ma vaffanculo Punteggio e relazioni col mondo Già tanto sei qua sopravvivo No, questo è troppo lungo Ci va troppo tempo Lo faremo dopo Teniamoci fermo a questo slot Non importa Reduci il tuo valore di guerra fondaio a zero Sì, lo faremo Lo faremo, tranquilli Se non perdo gli occhiali Sarebbe la cosa migliore Oh, mio Dio, mio Dio, mio Dio Forse tutta questa assurda preparazione Durata 4 episodi Sta arrivando dove deve andare Sta arrivando a posto A posto Arriveremo a una pace bianca Facciamo se devo fare una pace bianca Invia offerta No, non è importante Non è importante 152 giorni Per favore non andiamo in fallimento In 152 giorni E saremmo Ce l'avremmo fatta Ce l'avremmo fatta A far partire l'ultimo programma Che mancava Indagine di una commissione internazionale Va bene L'ultimo dannato programma Che mancava Oddio Forse ce la facciamo Oddio 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 Siamo Siamo lì Siamo lì Siamo lì Siamo lì Siamo lì E ce la possiamo fare Vabbè Fanculo le relazioni con il mondo Fanculo Quel belligerante Lo malcontento Dai 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 Io non vedo l'ora Veramente Un progetto Durato Per riuscire a portare la Mongolia Ad essere uno stato decente A poter fare delle guerre Un progetto che è durato 4 fottuti episodi La guerra Chi se ne frega Tanto poi potremmo noi a prendervi per questa guerra E vedete che poi facciamo il culo dopo questa guerra Dai Non vedo l'ora Non vedo l'ora 16 giorni 15 13 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 Si Ce l'abbiamo fatta Non ci credo Non ci credo Non ci credo Aspetta 2163 3 Facciamo una bella roba Facciamo anche partire i 5 carri armati Così poi abbiamo anche i punti che dovrebbero arrivarci dopo Forze armate Forze armate Unità Da trasporto Stiamo per fallire Ma abbiamo sbloccato ste benedette unità da trasporto Una roba È stata un'impresa improba a sbloccare queste qua 6 tech 7 tech 8 tech Che questa costava niente Questa costava niente Non importa Questa costava niente Ma questa costava Non mi ricordo Forse anche questa costava un botto Oh mio dio ragazzi Ce l'abbiamo fatta 480 giorni Alle unità da trasporto E a quel punto E a quel punto La guerra con il Kazakistan Probabilmente potrà Entrare Decisamente Più Nel vivo Ce l'abbiamo fatta Come dicono nel basket The process Come per Philadelphia Nel basket Veicoli di rifornimento Ma magari potessimo farla Magari potessimo fare Veicoli di rifornimento Togliamola Il processo è finito Finalmente Dal prossimo episodio Si potrà Iniziare A combattere Ma come possiamo fare Ste missioni 408 di popolazione Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Con le conquiste Perché tra poco Inizieremo a conquistare Accetta la pace bianca Tra poco Che inizieremo a conquistare Inizieremo a ottenere Quello che vogliamo E quello che vogliamo È un posto al sole Conquistare una provincia Dopo l'altra Espanderci E finalmente Diventare Una Dannata Fottutissima Benedetta Potenza Oppure morire nel tentativo Ma almeno saremo riusciti Ad aver le armi Ci vediamo la volta prossima Ragazzi Ciao ciao Ah se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace E finalmente Ripeto Il processo Fate Caspita volete Ma finalmente La prossima settimana Del prossimo episodio Riusciremo A iniziare A fare Qualcosa Di vero Alla prossima Ciao ciao Grazie a tutti